Ciao amici di Momento in Cristo Channel. Oggi vorrei condividere con voi un messaggio di amore e speranza. Se ami Dio, non saltare questo video. A volte Dio ci trattiene e ci impedisce di andare avanti finché la strada non è chiara e sicura per andare avanti. Se stai attraversando un momento difficile, sii grato per l'attesa, perché ciò che è destinato a te non andrà perso per te. Non perdere tempo a preoccuparti, perché Dio ha già fatto tutto per te. Se qualcosa non è nei piani di Dio per te, lascia che ti sfuga di mano e chiedi la pace per non preoccupartene. Dio benedice molte persone, ma molte volte, quando la vita va bene, ci dimentichiamo di Lui. Per favore, non dimenticare Dio. Ti ama e vuole che tu gli stia vicino. Ricorda che arrabbiarsi non è un peccato, sei umano e hai emozioni. Tuttavia, non è giusto agire mentre sei arrabbiato. Controlla la tua rabbia, non andare a letto arrabbiato. Perdona e ama le persone intorno a te. Non lasciare che ciò che gli altri ti fanno controlli il modo in cui tratti gli altri. E Dio dice, parlami di più e ti aiuterò a discernere il bene e il male della tua vita. Ti amo. Se questo messaggio ti ha toccato il cuore, fai click sul pulsante di iscrizione in basso per unirti alla nostra community del canale Momento Em Cristo e ricevere altri messaggi di amore e speranza come questo. Non dimenticare di mettere mi piace al video e di condividerlo con i tuoi amici e familiari. Grazie mille per la visione e che Dio ti benedica oggi e sempre. Amen.